Nuvolori, carichi di pioggia, tuoni, fulmini, grandine, strade come fiumi, automobilisti in difficoltà, campi allagati e decine e decine di chiamate di soccorso alle forze dell'ordine. Nelle province di Bari e Bat, come nel resto della Puglia, gli ultimi giorni sul fronte meteo sono stati d'allarme rosso. I nubi fragi, cominciati nello scorso weekend, hanno fatto danni un po' dappertutto e l'ondata di maltempo, la più rovinosa e violenta dall'inizio dell'anno, sembra senza fine. Oggi gli esperti meteo prevedono un giovedì nero con altri rovesci improvvisi in cui si alterneranno fino a sera temporali e schiarite. Nel Barese la pioggia, cominciata a cadere dal mattino, si farà sempre più intensa nel corso della giornata. Anche le temperature in caduta libera non andranno oltre i 22 gradi. Stessa storia anche sulla Bat, dove il picco del maltempo è previsto nel pomeriggio. Ultime ore di passione comunque perché i meteorologi, come già previsto ad inizio settimana, vedono un netto miglioramento della situazione a partire già da domani. Sabato, primo giorno d'estate, per tutto il prossimo weekend, qualche nuvola continuerà a far capolino, ma le bombe d'acqua e i disagi patiti in settimana saranno solo un brutto ricordo. Per oggi intanto il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'estensione dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà la Puglia con precipitazioni sparse e a prevalente carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, locali grandinate, frequenti attività elettriche, forti raffiche di vento. Ieri intanto i danni maggiori del violento acquazzone ha provocato danni e disagi soprattutto nella zona tra Modugno, Bitetto e Bitonto, con le provinciali Modugno-Bitetto e Modugno-Bitonto a tratti non percorribili. A Bitetto i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di allagamenti in cantine e case a piano strada e per soccorrere un'automobilista che a Palombaio, frazione di Bitonto, ha trovato rifugio sul tetto dell'auto, ormai completamente circondata dall'acqua. A Bari invece il fiume d'acqua che si è riversato in mare lungo la lama naturale che attraversa il quartiere San Girolamo ha sommerso e cancellato la popolare spiaggia del Canalone. La caduta di un albero sulla linea delle ferrovie dello Stato tra Barlette e Trenitapoli ha provocato ritardi ai treni sulla linea Bari-Foggia. Problemi di viabilità anche sulle ferrovie a Pulolucane con la linea Binetto-Palo del Colle-Modugno rimasta interrotta per ore. Intanto, nonostante la gravità della situazione, in molti non hanno perso l'ironia e hanno postato su Facebook foto curiose. Un gruppo di modugnesi ha scritto stasera grigliata di pesce in via Bitonto dopo la chiusura al traffico della strada che porta al cimitero e per prepararsi alla buffata si sono armati di canne da pesca per procurarsi la materia prima. Tutto finto naturalmente, ma un modo originale per sdrammatizzare e riderci un po' su. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS